in un pomeriggio normale avremmo detto luca lo stesso luca carboni sulle di radio oggi cara eva edili possiamo dire proprio che c'è luca carboni alle di radio è qui proprio in carne d'ossa buon pomeriggio ciao a tutti allora innanzitutto come stai luca bene dai sono un po emozionato perché siamo qui per oltre che per essere qui in radio ma anche per fare un concerto questa sera lobby all e quindi fra un po c'è il sound check insomma andiamo a verificare che tutto sia a posto ma a noi di solito piace pensare a noi profani no che grande artista dopo tanti anni di successi un concerto a lobby all così lo prende di tacco non c'è emozione invece insomma nonostante tanti anni ogni concerto fa parte a sé fa parte a sé una storia nuova e niente sono emozionato insomma sempre anche perché ti sta dando veramente tante grandi soddisfazioni questo lavoro questo dodicesimo album diciottesimo in totale se ricordiamo anche le varie complessivo insomma delle altre delle raccolte eccetera e quindi insomma ti sta veramente dando grosse soddisfazioni l'abbiamo visto anche con il singolo che abbiamo appena ascoltato si devo dire che insomma c'è stato una io credevo molto in queste canzoni in questo album ma non pensavo che anche il primo singolo luca lo stesso avesse questo riscontro enorme non solo per i passaggi radio ma 10 milioni di visualizzazioni il video insomma disco di platino abbastanza subito quindi è stata una bella una bella sorpresa perché insomma avevo fiducia ma non pensavo a una cosa così grande poi anche secondo singolo che è un po meno solare sicuramente una canzone un po più scura un po più dark bologna è una regola sta andando molto bene anche questa quindi si è fatto bingo forse la ragione lei che insomma è un album che ha tanti singoli delle potenzialità di singoli sono le canzoni sono venute con una certa energia con una bella ispirazione quindi forse insomma questo sta arrivando anche alla gente quella stessa energia che ritroveremo live questa sera all'obby hall di firenze in un giorno particolare perché insomma è la festa della donna e quindi quante volte hai cantato per le donne sì io tante volte ho cantato diciamo per le donne anche in modo molto rispettoso e molto romantico altre volte anche le ho anche un po' presi in giro con ma le ragazze con ironia come nel caso sì anche le ragazze era una canzone che alternava momenti più romantici e momenti più ironici e poi come dicevi tu c'è una canzone in questo disco dieci minuti che è un po' una presa in giro del di 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 dei dieci minuti che le donne molte volte ti dicono in realtà sono molte di più esatto interminabili infatti io nella canzone racconto tutto quello che si può fare Luca ma questi dieci minuti ecco scusami io ci tenevo a dirlo non è che stasera poi a un certo punto del concerto essendo l'otto marzo improvviso uno striptease succede qualcosa per i per i zomi no no questa sera cose normali no questa sera guarda lui lui è il comico della situazione no questa sera sono se al di là delle donne ma dell'età del tanto pubblico che ci sarà è l'emozione è l'emozione che ci farà vivere Luca perché allora innanzitutto abbiamo saputo che è di parola perché ci aveva promesso di essere qua nel giorno del suo concerto e questo è stato non è poco la promessa è quello di emozionarci questa sera lo sta già facendo con questo lavoro con questo album ben undici tracce dove troviamo pop ironia amore attualità insomma veramente ci hai messo tutto te stesso questo lavoro e spero di metterlo anche stasera perché anche il concerto questo concerto è un concerto molto particolare un concerto che ha dentro queste cose che stai dicendo addirittura abbiamo cercato di creare di dare una sorpresa alla gente anche con le canzoni del passato che le abbiamo tutte riarrangiate in chiave più elettronica molto vicino al suono di pop up abbiamo creato anche con dei video nonostante questo sia un tour che vai anche in club anzi soprattutto in club quello di stasera un po un posto più particolare perché lo possiamo vivere come club ma nasce come teatro tenda con anche la possibilità di stare seduti quindi addirittura questa sera abbiamo per la prima volta creato due situazioni sia per chi lo vive in piedi per chi lo vive seduto ma abbiamo nonostante appunto sia un tour nei club con palchi anche piccoli comunque portato in giro anche tre schermi per creare un racconto molto bello anche visivo anche lì giocando con ironia con colore col concetto di pop art di di comics quindi insomma sarà un concerto pieno di cose spero di dare l'emozione che dicevi tu noi ne siamo certamente convinti di ciò e quindi insomma avremo modo di di viverlo questa sera allo biol di firenze come del resto dicevamo ascoltando questo lavoro ben 11 canzoni insomma e sono convinta che prossimo singolo non 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 te lo posso ancora dire perché stiamo decidendo in realtà prima forse te l'ho detto ma un po in privato senti ma c'è una canzone che non può può veramente assolutamente mancare in un tuo live anche perché forse quella che le persone si aspettano ma ci sono canzoni come ci vuole un fisico bestiale come mare mare come farfallina come silvia lo sai che praticamente da quando le ho pubblicate non ho mai smesso di farle dal vivo però in realtà non è una legge assoluta cioè si potrebbe benissimo anche sorprendere il pubblico facendo non facendo certe canzoni che a tutti i concerti comunque sento però fino adesso nel caso di queste quattro canzoni non non l'ho mai fatto non ho mai avuto il coraggio di non metterle anche perché mi piace comunque nonostante le abbia scritte io le abbia cantato tante volte tutte le volte mi piace farlo tra l'altro questo tour è accompagnato da un hashtag volevo chiederti ma è un'affermazione un punto di domanda un concerto può fare può fare può dare la felicità ma un concerto a me che salgo sul palco quando viene bene quando c'è un bel rapporto con la gente mi dà felicità e quindi intanto lo vivo io così in prima persona ma questa frase nasce dal ricordo di essere spettatore io ho vissuto da ragazzo dei concerti che mi hanno veramente aperto gli occhi mi hanno emozionato mi hanno dato la felicità mi hanno fatto scoprire che volevo fare per esempio questo questo mestiere di della musica quindi insomma sì penso che un concerto possa dare la felicità sai cosa eva pensavo che a noi tipo in fine anni 90 luca carboni ci dava la felicità perché viaggiavamo verso rimini quell'estate cantando proprio ho comprato anche la moto è proprio per questo noi sognavamo e speravamo la donna di quell'estate naturalmente oggi invece ti vorrei chiedere visto che è l'otto marzo qual è stata se c'è o addirittura due quali sono le tue due donne della sua vita chi sono ma sì la donna della mia vita ce l'ho perché dall 89 che 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 c'è la donna è ancora con me insomma e quindi vivo una bella storia felice ma un'altra donna la seconda volevi due donne sì anche una allora anche la mamma è la mamma non c'è più e quindi questo fa ancora sentire di più la felicità di quando c'era assolutamente sì per la cronaca noi quell'estate poi grazie a te non trovammo nemmeno una donna però racconta la canzone però cantavamo cantava anche la canzone non portava bene perché in realtà la canzone raccontava era fatto di di tornare a casa poi a mani vuote allora noi sappiamo non possiamo rubare più tempo al nostro luca carboni perché tra pochissimo lo lasciamo alle prove al soundcheck di questo appuntamento live di stasera quindi certo cosa ci aspettiamo mi prometti emozioni ci farà emozionare come sempre sì io cerco di fare il massimo per darvi quella felicità che ho insomma citato prima e di viverla io per primo e di poterla regalare anche agli altri e noi ti ringraziamo per essere stato sulle di radio ci ascoltiamo dieci minuti ok ok dedicata alle donne sì alla grande grazie ciao a tutti